Un albero si spezza a metà e precipita sfiorando un'abitazione in via Trentino. Sono tanti i residenti della zona che si sono rivolti a noi di Rete Veneta, spaventati ma al tempo stesso profondamente infastiditi perché, come ci hanno raccontato, quell'albero sarebbe stato definito flessibile e resistente al vento dopo un sopralluogo dei tecnici del comune. Una tragedia fortunatamente solo sfiorata e pensare che proprio lì, fino a poco tempo fa, c'era anche la caserma del corpo forestale. Con la caduta dell'albero la zona è rimasta isolata, senza telefoni fissi e funzionanti.